Consigli e spunti su abbigliamento, accessori, casa, cibo e molto altro, ma anche riflessioni sulla ripartenza post-covid del commercio piacentino. Alvia la campagna di comunicazione social dei negozi di vicinato. Nei giorni scorsi sono partite le dirette su Instagram della cabina di regia Vita in Centro. 12 esercizi commerciali del cuore urbano cittadino, tra quelli più attivi nel mondo digitale, sono protagonisti dei video che intrattengono i follower fino a fine settembre. Gli spettatori possono fare domande in diretta. Il programma degli appuntamenti è pubblicato sui canali social del progetto. I commercianti del centro interessati a partecipare possono scrivere a info-vitaincentropiacenta.com. Le dirette di Vita in Centro a Piacenza sono degli appuntamenti in diretta appunto su Instagram, sul canale Instagram di Vita in Centro, che coinvolgono i commercianti del centro storico che durante questi brevi appuntamenti si raccontano. Un input di ripartenza per il commercio piacentino dopo questo periodo di emergenza Covid. Con queste dirette quale messaggio si cerca di veicolare? Si cerca di spingere i clienti a ritornare a fare spesa in centro storico. Tutti i partecipanti infatti a queste dirette aderiscono al concorso Compra e Vinci Piacenza Riparte con te. Un contest sostenuto anche da Editoriale Libertà sulla scia del portale comprapiacenza.it, lanciato per aiutare gli imprenditori del nostro territorio nel percorso di ripresa economica dopo l'emergenza coronavirus. Per partecipare al concorso occorre raccogliere almeno 20 scontrini del valore di 10 euro ciascuno, registrarsi al sito viteincentropiacenza.com slash concorso e caricare i propri scontrini fino al 15 di settembre. Entro il 30 di settembre verranno estratti i vincitori. Primo premio è un buono di 500 euro da spendere sempre nelle attività aderenti.